Il Consiglio di Stato ha dichiarato ammissibili gli interventi in primo grado proposti dall'Associazione Ambientalista Fare Ambiente accogliendo gli appelli della stessa. I giudici hanno bloccato una nuova costruzione dalla volumetria di 3.775 metri cubi in zona Serroni ed una in via Rosario di 3.294 metri cubi. A spiegare nel dettaglio le due vicende l'avvocato Ferdinando Belmonte. Le due sentenze del Consiglio di Stato pubblicate in data 14 aprile 2020 sono fondamentali perché unitamente ad altre sentenze pubblicate nel 2016 e nel 2018 vengono incontro alle esigenze di tutela particolarmente richieste da residenti ed associazioni che operano sul territorio provinciale di Salerno, in particolare in quello comunale di Battivaglia. Il Consiglio di Stato, anticipando ciò che è stato ampiamente chiarito da una recentissima sentenza di adunanza plenaria, ribadisce che le associazioni ambientaliste sono legittimate ad intervenire in giudizio o comunque ad impugnare provvedimenti di cui lamentano una legittimità che incide sulla qualità della vita in un dato territorio. L'Associazione manifesta infine ampia soddisfazione anche perché il Consiglio di Stato ha nuovamente stigmatizzato l'orientamento giurisprudenziale portato avanti dal Tar Salerno, unico Tar d'Italia a non ammettere ancora le associazioni in tematiche di tutela del territorio e di pianificazione urbanistica.